Sono stata in Erasmus nel 1997. Ho fatto la tesi, le ricerche per la mia tesi di laurea a Aix-en-Provence, che era una tesi sull'Islam politico. La mia passione era studiare questo tema e senza l'Erasmus non avrei potuto farlo. Ricordo molto bene che è stata, intanto si l'impatto con una città bellissima, molto vivace, molto giovane e soprattutto ricordo che è stato per me la prima vera esperienza di autonomia. Mi chiamo Pierpaolo, sono italiano e ho 21 anni. Il mio studio è Scienze Politiche alla Freie Universität di Berlino, ma sto facendo l'Erasmus in Francia. La ragione primaria era quella di migliorare la lingua e quindi avevo interesse a imparare il francese per una futura carriera. Mi ha sicuramente aiutato con la lingua perché è stata la prima volta che io ho di fatto usato il francese e il mio francese di oggi, per quanto non perfetto, deriva da quei mesi. Mi ha permesso di avere un'esperienza di contatto con altre culture ed è quello che più o meno vorrei fare nella vita, quindi la possibilità di intrecciare relazioni con persone da altri paesi e allo stesso tempo di essere forse anche più cosciente della mia cultura rispetto a quelle delle altre e di anche sviluppare una coscienza europea.